bene ragazzi sono in montagna e guardando nella dispensa ho trovato della passata di pomodoro che è scalduta a gennaio 2018 e dato che siamo ad aprile 2018 e si può fare soltanto una cosa io non la butto via è semplice avete capito e vai sento il posto più orribile della storia anche in pendenza vai forte qua era questa cosa che voleva evitare vai puzza anche di bestia questa roba no 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 ma non esplode ammirare si si è rimasta una si 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 e vai ho paura di sporcarmi tutto è quasi andato sopra il balcone si e niente ragazzi come si è visto non sono un giocatore di baseball però ci tento e cliccate i like se il video vi è piaciuto condividete e dopo fate quello che volete e niente alla prossima e vai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti